La settimana del Salone del Mobile a Milano. Gli eventi del fuorisalone stanno portando grande vivacità in tutti i quartieri, dal centro alle periferie. Oggi siamo stati alla Bovisa, nuovo polo tra tecnologia e design. Loghi ed eventi immancabili per il fuorisalone, oltre mille in città. Quest'anno un distretto in più, quello di Bovisa, in un'ex fabbrica dei primi del secolo, la fabbrica digitale, stampanti analogiche accanto a quelle digitali. Da Gutenberg a Zuckerberg si dorme, in stanze semi trasparenti, un po' stello, un po' mostra. Ci sono i workshop per i bambini e i laboratori, per gli artigiani digitali. Per noi di design è fondamentale vedere ciò che sta succedendo qua a Milano in questa settimana. Innovazione e tecnologia, l'anima di questo distretto, aperto tutto l'anno. Il quartiere Bovisa, da sempre culla del design e sede di progetto, sede della creatività milanese, trova anche un respiro internazionale. Ci sono poi i progetti degli studenti del Politecnico di Milano, moda, design interni e comunicazione. Una cosa da sfruttare al 100%, ogni anno, e dovrebbero farlo tutti, credo.